Buongiorno a tutti, oggi ho intenzione di riprendere l'analisi della storia diplomatica italiana attraverso la lettura di alcuni passi del diario di Galeazzo Ciano e di uno specifico passi di 81 anni fa, ossia dell'aprile del 1940. L'Italia è ancora non belligerante, non si è ancora deciso un suo intervento, si sa che comunque l'alleanza con la Germania porterà inevitabilmente a una propria partecipazione in qualche modo, ma la realtà attendista della prima parte della primavera del 1940 offre ancora alcuni spiragli di riflessione, di attesa, per vedere anche come lucrare come è stato fatto 25 anni prima nel 1915, cercando in qualche modo di trovare una situazione di equilibrio e cercare di offrire il proprio intervento al migliore offerente. Nella lettura del 20 aprile del 1940 Ciano, che non scrive da otto giorni il suo diario, è stato malato e che questa malattia tra l'altro ha offerto dei dubbi, delle prospettive, anche degli intrighi all'interno della compagine governativa e non solo del regime fascista per una tua possibile defenestrazione. Allora, ecco cosa ci dice il 20 aprile. La mia malattia ha dato luogo a molte chiacchiere, si è parlato di malattia diplomatica e Roma è piena di voci delle mie dimissioni. Naturalmente i successi tedeschi hanno determinato molte rarefazioni nelle file dei cosiddetti amici. Viceversa, chi ha preso una posizione coraggiosa è stato un vecchio antifascista, Alberto Giannini, che ha scritto al Duce, scongiurando di non compiere il gesto di allontanarmi, poiché ciò aumenterebbe il disorientamento del paese. Questa situazione è molto dinamica, nel senso che Ciano rappresenta ancora quel freno verso l'intervento. L'Italia è in bilico tra i guerrafondai e i pacifisti, coloro che ritengono la Germania non ancora forte o non abbastanza forte per spostare gli equilibri, per mettere in ginocchio la Francia e la Gran Bretagna. Sapremo che la situazione da lì a due mesi sarà profondamente diversa, ma ancora a fine di aprile del 1940 la situazione è ancora in equilibrio. o quantomeno molti pensano che la Francia e la Gran Bretagna non riusciranno mai a essere sconfitte, a essere messi all'angolo dalla Germania. Quindi la Germania ha avuto il suo momento di gloria in Polonia, o nel cercare di assestare colpi nella zona del nord Europa, ma non riuscirà mai a mettere in ginocchio la Francia. Sapremo che la situazione sarà completamente diversa. Mussolini ha reagito simpaticamente nei miei confronti. Ha detto prima che intende fare qualcosa che tagli netto queste dicerie, e poi a Buffarini e a Muti che io sono uomo che gode la sua piena fiducia. Ciano che si è fatto tanti nemici, che in molti vorrebbero fare le scarpe, che molti vedono come un importante pretendente alla successione a Mussolini, e quindi in qualche modo vorrebbero eliminarlo. E tra questi sicuramente c'è Muti e Buffarini, che in qualche modo volevano lavorare ai suoi fianchi. Ma in questo Ciano è fiducioso perché ha dalla sua il suocero. In questi giorni d'assenza, nessuna novità interna, tranne l'arrivo di una lettera di Hitler per fare il punto della situazione. Naturalmente in tono ottimistico. Verso il Duce usa parole che vanno dritte al cuore e producono il loro effetto. Assia, il ministro tedesco, l'ambasciatore che ha relazioni importanti a Roma, ieri sera mi ha parlato dell'offensiva imminente e ha narrato che Hitler accusa il cattivo tempo di avergli impedito di trascorrere il suo compleanno a Parigi. Diciamo, è molto ottimista Hitler in questo. Ho ritrovato dopo dieci giorni Mussolini più guerraiolo e germanizzante che mai, però dice che non farà niente prima della fine di agosto. Dopo aver migliorato la preparazione, dopo i raccolti. Tre mesi dunque che lasciano ancora adito a qualche possibilità e speranza. Sappiamo che da lì a un mese la situazione sarà completamente diversa, verrà accelerata tutta la presunta preparazione, ossia l'impreparazione che la campagna occidentale tedesca porterà l'Italia a dover decidere anche a fronte della propria cronica impreparazione. 21 aprile. Il discorso che il duce fa dal balcone di Palazzo Venezia è sobrio e misurato. Viceversa quello che ha pronunciato all'interno del palazzo ai rappresentanti delle confederazioni è estremista e assista nel senso di provasse al 100%. Subito dopo però mi ha detto di attenuarne gli eventuali echi nel corpo diplomatico perché fino alla seconda metà di agosto non è lontanamente il caso di parlare di guerra. Ecco quindi Mussolini come da un certo punto di vista è guerraiolo ma dall'altro conosce i limiti del proprio paese e quindi non si vuole impegnare prima di agosto. Sapremo che la situazione sarà completamente diversa. 22 aprile. Stamane i termini vengono ancora spostati. Primavera del 1941 addirittura perché secondo il duce la Scandinavia ha allontanato il centro e la soluzione del conflitto. Naturalmente ciò non significa che egli abbia minimamente mutato il suo stato d'animo. Ha avuto, pare, un colloquio un po' vibrato con il re durante il quale ha asserito che l'Italia oggi è già di fatto una colonia britannica e che alcuni italiani sarebbero disposti a farla diventare tale anche dei Ure una malta moltiplicata per un milione di volte. E ha aggiunto Ho visto quel vecchio impallidire nei confronti del re ma ahimè il re che pur è tanto contrario alla guerra non può far niente altro per scongiurarla. Ecco quindi che Mussolini nonostante la sua vocazione attendista è comunque portato a entrare in guerra perché appunto ritiene in quel momento specifico la necessità di dare un colpo anche egli alla Gran Bretagna non poter subire ancora lo strapotere britannico nel Mediterraneo e quindi reputa la funzionale quello che sarà poi il tentativo di guerra parallela che fallirà miseramente ma in queste frasi emerge proprio questo desiderio desiderio capiremo velleitario ma desiderio di fare qualcosa di non poter più attendere e lui però pensa che potrà attendere ancora però poi sapremo bene che le vittorie tedesche in Occidente lo porteranno ad anticipare notevolmente non solo della primavera del 1941 come dice il 22 apri ma addirittura ancora prima di agosto. Ho visto François Ponset l'ambasciatore francese a Roma era in una eccitato e depresso parlava di prossime azioni italiane tanto prossime che sembrava dovessero aver luogo da un giorno all'altro ecco capiamo come François Ponset è più realista del re nel senso che comprende probabilmente molto prima degli stessi italiani come la minaccia tedesca nei confronti della Francia è più reale di quanto in realtà possa sembrare e quindi capisce bene come l'Italia in realtà sarà costretta a entrare in guerra molto prima di quello che essa stessa possa pensare l'ho un po' orientato ed è uscito dalla mia stanza meglio informato sulla nostra politica è più sereno bontà sua dico io lo stesso ho fatto con l'ambasciatore d'America che è sempre più si rivela amico e gentiluomo e con qualche altro di minore grandezza io non vorrei proseguire nell'evoluzione magari avremo modo nei giorni futuri di riprendere questo discorso degli ultimi mesi e mezzo di non belligeranza italiana ma questo ci evidenzia ancora come la situazione prima dell'attacco tedesco alla Francia sia ancora attendista perché si pensa che l'equilibrio possa comunque rimettere in gioco le cose riequilibrare le cose e garantirà l'Italia la possibilità di rinviare un proprio intervento bellico la realtà metterà di fronte al fatto compiuto l'Italia e quindi sarà molto più difficile continuare nella non belligeranza con tutte le conseguenze che ben conosciamo ma questo lo riprenderemo per arrivare al 10 giugno detto questo come alzato mi metto a mettere mi piace iscrivetevi al canale alla prossima ciao ciao ciao